Lui è dato dalla famiglia Ed è dato anche da un personale che ci segue anche da tantissimo tempo Noi abbiamo avuto il personale che è stato con noi anche per più di 50 anni Il make è la peculiarità della nostra fabbrica Noi siamo rimasti una delle poche fabbriche che producono all'interno almeno l'80% dei pezzi Usarei dire il 100% dei pezzi meccanici La qualità nasce fin dall'inizio La qualità nasce fin dal controllo della lamiera Quando arriva che deve essere della lucentezza giusta Che deve essere dello spessore giusto Se si parte bene si arriva a un risultato ottimo Possiamo intervenire migliorando i piccoli difetti che ci sono In questi 70 anni come dire siamo stati sempre attenti alle esigenze del mercato Abbiamo sempre anticipato di un anno quello che era poi il boom dell'anno dopo Il jack è stato il nostro prodotto di successo dell'euroluce 2015 Adesso nel 2017 vogliamo integrarla in alcuni sensori che la faranno diventare domotica Grazie a tutti Grazie a tutti